eeeh bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io mi chiamiamo l'unica la fanno oggi c'è un nuovo video dove combatteremo raga il boss finale di questa mappa raga questo sarà proprio boss finalissimo di questa mappa proprio combatteremo il boss del lupo lupo dei ghiacci eeeh e niente raga spero che ce la facciamo perchè raga sappiamo io e manuel che è molto molto difficile molti youtuber per esempio non ce l'hanno fatta a sconfiggerelo questo boss perchè era molto molto difficile però c'è un boss di the island la prima mappa che hanno aggiunto infatti su arc che è ancora più difficile di questo e comunque il lupo dei ghiacci praticamente può noi non combatteremo in questo boss massimo massimo alla fine se muoiono tutti questi t-rex perchè è molto probabile che muoiono tutti questi t-rex però noi l'abbiamo allenato un bel po' e comunque eeeh noi non combatteremo massimo massimo alla fine come vi ho detto perchè eeeh eeeh alla massimo tenereci a rischio per combattere ma non possiamo però ragazzi se perderemo in questo video il prossimo sarebbe l'ultimo perchè può essere questo non è l'ultimo probabil- è tutto probabile se noi ce la facciamo sconfiggere o no no comunque praticamente noi eeeh se ce la facciamo lo sconfiggeremo se no niente eeeh man sta ha spawnato tutti questi che abbiamo addomesticato cioè i due abbiamo addomesticato vabbè come sempre man sta spawnando i boss e sono un po' carico un po' tanta paura eeeh e niente ragazzi può essere la fine della video saremo un po' triste per la morte dei t-rex perchè ragazzi molto probabilmente moriremo comunque ma ti consiglio stare sopra ai t-rex sono sauro che devi sempre scendere dagli animali per sparare poi non so ragazzi e ma e ma non le tra poco cioè ci trasporteremo aiuto e ma tra quanti secondi e ma due uno oddio due uno aaaah ok sponato calmo calmo calmi 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 chi sono? io sono di già ok vedo vede boss vede boss ragazzi ci siamo ragazzi ci siamo noi non combatteremo come vi ho di già detto oddio paura ho paura tra poco lo vedremo e boss ecco che è di già lottato oddio ma ecco che sta partendo aspettate che cavolo fate ragazzi oddio ma attento il lupo il lupo fantasma guardate che casino più possibile lo so si vede si vede si vede si si raga mi ho fatto salire molto di livello i nostri animali si vede perché raga è molto forte ecco i lupi ecco i lupi però non stanno venendo verso di noi ma non sparare ma non sparare no un tirannosauro è morto dai ma puoi stare ce la facciamo può essere un tirannosauro non so se ma sta attento no 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 stanno morendo stanno morendo no no ma attento che può tirare con le raggi dai 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 ti prego si dio ce l'ha fatta raga restatemi tiranno è un tirannosauro è un tirannosauro è alto ma che dici sono no ragazzi siete gli unici siamo sono ecco aspett voglio far spostare tutti per il corpo voglio far vedere il corpo un attimo se ce lo faccio in tempo perché mancano un pochi secondi no non ce l'ha fatta no 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 che corpo è qua ecco è disponato il corpo raga ce l'ha fatta ce l'ha fatta nel video a sconfiggerlo si voglio far vedere l'animale che ti ha dato ti ha dato un animale domesticato si uh un animale domesticato raga raga guardate all'inizio eravamo così e guardate come siamo usciti con una perdita molti treks sono andati a mancare vediamo chi è la tutta mancata uh il lupo solo uno te ne andava vabbè uno penso raga e comunque vi voglio far vedere il l'armatura che abbiamo fatto io e Manuel e raga guardate abbiamo questo jetpack abbiamo questo pugno che puoi mandare su e giù è super super figo raga siamo un po' tristi perché guarda ve lo ricordate all'inizio delle boss quanti eravamo raga guardate ora guardate quanti t-rex siamo ora con uno due tre quattro cinque t-rex raga e un ui ui tiranno vabbè poi c'è il mio mewing quello è un'altra cosa ma triste ma abbiamo luttato abbiamo luttato per questa cosa e Manuel che sta andando verso l'infinita invece di andare verso l'infinita raga e andremo a casa ora si teletrasporta Manuel insieme a me ecco praticamente la zona per teletrasportare si è così vedete questa zona così che si sta allargando sarà è così in realtà quando ci stanno teletrasportando prima ma io non lo vedevo perché penso che non ero lost questo è stato un video un po' triste perché è finito con una vittoria ma con pochissimi animali ma abbiamo rispetto all'inizio andremo andiamo verso casa noi comunque continueremo la mappa raga devo dire la verità continuiamo questa mappa però solo per esplorare domesticare un po' di animali così ma quindi non farò video raga perché dopo che combatto il boss finale io non faccio più video di quella mappa sono un po' felice perché mi ho finito finalmente questa mappa che io mi aspettavo che non finiremmo mai questa mappa è durata un mese è la prima la sesta di crystal è il prossimo di giocare infatti come avete sentito questa mappa come ho detto ma non è durata raga un mese per noi per voi è durata può essere un po' di più perché c'era uno stop di video queste cose però per noi a continuare a giocare giorno dopo giorno a fare video per noi è durata un mese questa mappa noi la continueremo fino a che andremo a 100 giorni del gioco del gioco non immaginatevi 100 giorni nella veterale che è impossibile raga ecco la fortezza ragazzi della fortezza siamo venuti con una perdita raga ancora un botto di animali non possiamo dire niente ci sono state molte perdite in questa mappa il mio parasauro che ora l'abbiamo ritrovato e niente ecco il no il terzinosauro raga il granchio ve l'avevo detto che l'abbiamo domesticato il granchio è questo qua fighissimo molto molto amico c'è il piccirillo l'herry abbiamo ottenuto la sua bandiera si l'abbiamo ottenuta la metto io la metto io ragno abbiamo ottenuto perdite ma sulla ragno è vero un sacco di d è più in t-rex è più in t-rex mentre papà di bro bro abbiamo avuto giusto alcuni t-rex perché erano buggati poi off camera poi il drago abbiamo ottenuto perdite sì alcuni t-rex e poi raga il lupo guardate il trofeo del lupo un po' messo in mezzo alla folla aspettate guardate il trofeo del lupo ha avuto molte perdite praticamente il primo che ha avuto il primo che ha avuto pochissime perdite è stato padre di bro a parte bug giusto però quella che ho avuto meno perdite è stato padre di bro drago ragno e ultimo che ha avuto un sacco di perdite è stato il lupo raga il lupo lì abbiamo proprio come avete visto nelle video ha avuto un sacco di perdite raga questi saranno ricordi Emano le vuole fare una sorpresa ragazzi una sorpresina vediamo che sorpresa vuole fare ci metterò un po' però parlo di per vedere può essere capito quella sorpresa ma può essere capito un craftato vero non ve l'avevo detto questo che serve per distruggere praticamente gli oggetti che ho ottenuto che non servono a niente ok accendo questo dovrebbe farmelo eccolo qua metto le scarpe ci mancano sono i pantaloni per completare l'armatura però Emano lo voleva finire in modo bello non so come così 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 lavoriamo che fai di nuovo finisci senza del faccio di sopravvissuti del boss ah ecco come allora aspetta è così tipo aspetta ragà finiremo il video così questo video si può concludere qua io sto andando verso l'infinito verso la fine della mappa come è stato per vedere sto andando verso di lì per finire sta mappa è stato bello finché è durato adesso a terra e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao